Hanno messo ai domiciliari questa società, niente viaggi, escursioni, crociere, ma come si fa? Va di moda il respiro affannoso che succederà, io ho trovato un mezzo assai fico che mi aiuterà. Ma qualcuno continua a sognare la gita in montagna, gli occhi azzurri dell'alto attesino maestro di sci. Qualcun altro starebbe sdraiato sul catamarano, mentre io ho affidato i miei sogni ad un occhio lontano. Ho scoperto a casa mia, quale sia l'utilità, di guardare il mondo intero, da una piccola webcam. San Francisco alla webcam, e New York lì a 23, Tokyo, Lima ed Amsterdam, tutto il mondo alla webcam. Così mentre la gente impazzisce ai domiciliari, io cantando le note ritmate mi metto a ballare. Vado a spasso guardando dal vivo i luoghi più rari, con l'aiuto di quella magia chiamata webcam. Ho scoperto a casa mia, quale sia l'utilità, di guardare il mondo intero, da una piccola webcam. San Francisco alla webcam, e New York lì a 23, Tokyo, Lima ed Amsterdam, tutto il mondo la webcam, tutto il mondo la webcam, tutto il mondo la webcam.